Siamo ritornati nuovamente in Beauty Med, ormai siamo praticamente affezionati anche perché i trattamenti sono veramente moltissimi, sempre innovativi, sempre con delle novità assolute, ancora una volta in primo piano il viso perché è assolutamente il nostro specchio. Sono Azzurra Benini, sono la responsabile tecnica del brand Renofase, distribuito da MB, Divisione Cosmetica Italia. Dunque, Renofase è un brand che ha la grande capacità di intervenire su tutte le alterazioni legate all'organo pelle. Parlo di organo perché spesso ci dimentichiamo che la pelle è un organo, spesso viene vissuta come un contenitore, e invece è un organo molto importante perché oltre che a comunicare con tutti gli altri organi interni, ha un doppio lavoro, deve comunicare con tutto ciò che è esterno, tutto ciò che è fattore ambientale. L'obiettivo di Renofase è un cosmetico ad alta attività dermatologica, in grado veramente di riorganizzare, di riequilibrare qualsiasi alterazione, con la semplicità dell'utilizzo quotidiano. Quindi Renofase è una linea in grado da solo di portare dei benefici alla pelle solamente con una beauty routine a casa. Quindi possiamo partire anche da lì, proprio perché la quotidianità è fondamentale. Forniamo quotidianamente quelle molecole che per età alla pelle vengono a mancare. Sono il dottor Domenico Paris, mi conoscete, abbiamo la struttura Beauty Med a Biella Chiavazza. Sì, la nostra azzurra ci ha già elencato i vari benefici. Nella pratica medica, la medicina estetica ha lo scopo quello di andare a creare benessere, di andare a creare un ringiovinamento, non di andare a stravolgere tutta la struttura fisionomica della persona. In base a questo ci siamo messi lì insieme alla Renofase e creato dei protocolli, proprio il nostro metodo, il nostro progetto e questo progetto ci sta dando molte soddisfazioni. Oggi è la seconda volta che facciamo questo Open Day, stiamo rivedendo le persone che abbiamo iniziato a fare qualche mese fa con ottimi risultati. Purtroppo, come dicevo, per età e per tanti altri fattori, anche lo stile di vita, chiaramente, la pelle non produce più tutto ciò di cui le serve. Per cui è necessario, proprio quotidianamente, fornire queste molecole. Queste molecole, insieme ai trattamenti medicali, chiaramente sono in grado di sviluppare un risultato talmente importante e tangibile che insieme con il dottore abbiamo progettato vari abbinamenti proprio per andare a sopperire, soprattutto alle donne più esigenti che vogliono un risultato ancora più importante, l'unione appunto dei trattamenti al prodotto curativo. Lo scopo è quello appunto di andare a prevenire e qualora si possa andare anche a migliorare, anzi si migliora sicuramente, quindi senza fare grossi miracoli. La qualità-prezzo, diciamo che ne vale molto la pena, quindi siamo a un livello leggermente inferiore rispetto a quello della chirurgia estetica, leggermente inferiore con prezzi decisamente più accessibili.